Cari amici, ci troviamo in una situazione piuttosto complessa. Siamo qui che pensiamo ai balconi, nel frattempo le nostre libertà sono state compromesse, speriamo a tempo determinato, anche se non ci hanno ben spiegato quando il tempo finirà. Però siamo in un mondo in cui il virologo Burioni, una specie di nuovo santino di Fazio, ma non solo di Fazio, del popolo italiano, questo non vuol dire che non abbia detto anche delle cose giuste, Insomma, il grande virologo Burioni spiega al Papa come fare il Papa, come rapportarsi con Dio e con la preghiera e con il rapporto con i fedeli. Può anche non star simpatico il Papa, ma quando vedo che Burioni spiega al Papa come fare il Papa, penso che siamo diventati, come diceva oggi Marcello Veneziani, dei pazzi. Cioè la dittatura sanitaria è quella che rischia di comprometterci per i prossimi anni. I medici sono fondamentali, gli infermieri sono fondamentali e aggiungo di più anche quei poveracci che tutte le mattine stanno al supermercato a servirci da mangiare senza neanche le mascherine che la protezione civile ha fornito sbagliate alla Lombardia. Insomma, anche loro sono degli eroi in questo mondo in cui siamo tutti costritti a casa. Ma non voglio fare una critica a questa costrizione, a questa nostra libertà che piano piano stiamo abdicando. Vorrei fare una proposta, come in questi giorni mi viene da fare, non sono nessuno per farle, anzi lo faccio, credetemi, con una certa modestia, però con la forza, spero, delle idee. E cioè per situazioni di emergenza di questo tipo, in cui ci hanno messo, in cui mi sembra che le nostre libertà siano compromesse, mentre quelle del Tar lo siano di meno, beh, in questo momento c'è qualche cosa che si muove. Ci sono delle regioni che stanno cercando di affrontare l'emergenza con gli strumenti dell'emergenza. Ha fatto benissimo il Presidente Fontana a ingaggiare Bertolaso. Un euro di stipendio, come piace a quelli, no? Anticasta. Ma non basta. Non basta perché un consiglio che mi sento di dare, e secondo me bisognerebbe cogliere al volo, è che gli altri due grandi governatori del Nord, almeno altri due, se non tre, cioè il governatore del Piemonte Giro, il governatore della Liguria, Toti, che ha dimostrato col Ponte Morandi di saper far bene le cose, e il governatore del Veneto, Zaia, che ha dimostrato, opponendosi ad alcune follie del decreto ultimo, di avere una bella voce in capitolo. Beh, questi governatori di questa parte importante dell'Italia facciano come Fontana, cioè facciano TOC TOC! Governo? Guardate che ci prendiamo Bertolaso a coordinare in questa parte dell'Italia, che per il momento è tra le più colpite dal virus, ci prendiamo una persona che in modo spiccio faccia le cose che si debbono fare, la costruzione degli ospedali, l'acquisto dei ventilatori, e, come possiamo dire, l'evitare di farsi fottere dalle regole che hanno già fottuto questo paese e che rischiano di fottere, purtroppo, in maniera non metaforica, ma purtroppo drammatica, anche decine di migliaia di pazienti. Nel frattempo direi che è tutto, noi ci sentiamo con la zuppa come sempre e vi faccio un saluto. Ciao!